Prima l'America è uno degli slogan preferiti da Donald Trump, a cui ora pare aggiungersi prima i cristiani, almeno tra i rifugiati. La volontà di dare una preferenza tra i richiedenti asilo ai cristiani perseguitati sta creando divisioni tra le diverse confessioni, come pure al loro interno. Se Russell Barr, moderatore della Chiesa Protestante di Scozia, si dice inorridito dalla scelta di Trump, nel campo ortodosso, Ilarion, il responsabile del Dipartimento per le relazioni esterne e il patriarcato di Mosca, spende parole di ottimismo perché l'impegno del nuovo presidente americano possa portare alla fine delle persecuzioni delle minoranze religiose ed etniche in Medio Oriente. La questione ha suscitato dibattito anche in Italia, con alcune voci della Galassia Cattolica sul web che hanno applaudito l'atteggiamento della Casa Bianca per la difesa dei cristiani. Ma c'è chi vede in tutto ciò un pericolo. Cristiani e musulmani hanno vissuto insieme per tanti secoli in Medio Oriente e adesso fare una discriminazione di questo tipo, anche se è comprensibile perché spesso i cristiani non trovano aiuto in tante parti, però di fatto crea un'immagine confessionale dei conflitti e questo è molto pericoloso perché stiamo cercando di fare qualcosa nel mondo e cercare di diminuire l'aspetto confessionale che c'è nelle guerre. E' una scelta che oltre che sbagliata sul piano politico sarà grave sul piano culturale perché è una scelta che indica una correlazione che è sbagliata fra il mondo del terrorismo e il mondo dell'islamismo, il mondo dell'immigrazione e il mondo del terrorismo. Queste scelte non fanno che aggravare persecuzione, contrapposizione, anziché salvaguardare invece i cristiani che sono perseguitati oggi in almeno 59 paesi del mondo dove vivono 250 milioni di persone.